ho 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 ehi non ti sa sono le rotate ehi e' più facile che quello la eh e' più facile che quello la eh e' più facile che questa Hai fatto anche il santo Luca? Ma non hai fatto il santo! Non può fare! Eh? Non può fare! Però... Eh, se si fa... Non ci si infine! Aspetta che va qui! Perché... Se non arrivi la con la ruota alta davanti non vai su! Sì ma... Non devi fermarti eh! Parti eh! Non fermarti le parti su! È la stessa cosa di là! Se arrivi dritto lo fai! Eh? Se non arrivi dritto giragli intorno e basta! Deve essere giusto eh! Se arrivi lì bene vai su! Se non arrivi bene giragli intorno e basta! Non rischiare che non serve! Deve essere giusto! Sto qua! Ok! Ehm... Se è morto... Se non ci c'è due o quanto non ci sarà parte! Come rovi! bravo bravissimo hai fatto bene se esci bene dal sassoliva se sei convinto se sei salito bene se sei salito bene ma nanca perché? hai paura di andare a cambiare domani no dopo finì che la cambio non ci penso neanche no rovinaglia no perché non ci prova